Ciao ragazzi, oggi assisteremo alla nascita umana, voi vi chiederete come è questo dinosauro essere insignificante, poi non sappiamo neanche se fosse un dinosauro veramente, sembra un dinosauro barra cavallo, beh comunque questo dinosauro barra essere insignificante, lui creò la storia umana, questo dinosauro veniva chiamato il bastardo di famiglia, vi spiegherò, con quei due pezzi di cartone lui creò, vai dinosauro dillo tu, ok molto probabile, ecco, se non avete capito, stai fermo, mago merlino, comparì mago merlino, drago barra cavallo, posso esprimere tre dei tuoi desideri, quali sono? sinceramente non ci ho capito un cazzo, però educo che voglia diventare patty, comunque adesso patty, patty, ti sono rimasti ancora due desideri eh, voglio super cantare e anche voglio vermi come son da vecchia, allora cantare è impossibile, Dio, mio Gesù mi si scioglie il cappello da madre, allora, senti, io se non sono merlino, non sono Dio, e cioè non ti posso far cantare, ti posso far vedere come sei da vecchia, ma scusate, ti posso fare una domanda? ma è per vedere se sei ancora più cessa, te lo garantisco io però, se vuoi, oh, puff, diventi una patty vecchia di merda, ti rimane ancora un desiderio, non un desiderare di saper cantare perché sei una vecchia agli 80 anni, ma va ti a fare uno spaghetti, un salavino, un circolino, un arca, porco cane, voglio diventare una rapper, non capisci proprio, ma non è niente, beh, il suo desiderio sarà così, veloce, come gli altri, beh, aia, tre, due, uno, puff, oddio, non c'è più, per tutti i rotoli di cartigenica ha finito, nei buffi c'è così, giochiamo tutto a Dio, nei buffi c'è così, giochiamo tutto a Dio, oddio, lo scesso è meglio, e me lo dici a me? e sono una rapper famosissima, mi chiamo Fatti, e ho 80 anni, ma vai a tagliare il salame, vai, amicieri, che rapper di macacchino, se li aver sbagliato anche in quantesimo, Speriamo che il video vi sia piaciuto sull'evoluzione umana, oh, fermo, mi piaccio con questa nuova concettura, vengo a scuola così, bene, comunque, fatti bravi a scuola ragazzi, perché tra poco inizierà di nuovo, venite a domani, facciamo il lutto, comunque ragazzi, continuate a iscriverli, iscrivervi, iscrivervi, mettete mi piace, commentate, tutte queste cagate qua, e... mi frego, Pietro che lo sta smutannando, vabbè, e... Finollo Pallo veniamo a cercare, io lo mangio, in quanto di uno sapro professionista, Lollo, vai a... beh, buona, ciao, e... ciao, belli! Iscriviti! 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 Grazie.